Con noi Eco Futuro 2015 e anche Giovanni Pivetta di Abitami, un progetto che a Milano, se non sbaglio, è riuscito a realizzare una campagna, anzi tu ci tieni a dire una campagna, non un progetto, interventi straordinari di riqualificazione energetica anche nei condomini, la terra di nessuno, quella in cui normalmente si dice è impossibile realizzare questo tipo di interventi. Giovanni, come ci siete venuti, come vi è venuta l'idea? Allora, prima cerchiamo di non raccontare le balle perché gli interventi stanno partendo, quindi non sono già partiti. Abbiamo fatto un anno di lavoro e di esperienza facendo tanti errori sul campo, cosa vuol dire? Vuol dire che siamo andati a incontrare la gente nelle istanze pubbliche, siamo andati a monitorare i condomini e quindi ci siamo realmente addati zona per zona, cercando di capire se avessero o meno delle inefficienze energetiche, se gli edifici fossero energivoli e quindi sapendo se prospettare alla gente che poteva interessare. Dopodiché abbiamo capito che il punto fondamentale era farsi invitare nelle assemblee di condominio, parlare con i condomini e con gli amministratori, perché se tu parli solo con gli amministratori puoi trovare un effetto in una categoria molto particolare dove hai chi gestisce come buyer, si direbbe in termini industriali, come centrale di acquisti, 50, 100 condomini e quindi gestisce qualunque tipo di operazione di manutenzione ordinaria e non è necessariamente interessato a riqualificare quel condominio. Perché? Perché vuol dire far spendere i quattrini alla gente. Questo presuppone una mancanza di conoscenza alle volte, perché se sapessero la possibilità che c'è tramite gli strumenti come l'ESCO, farebbero fare degli affari e quindi farebbero non solo risparmiare, perché la parola risparmio non è corretta, in quanto all'inizio non si risparmia. Perché non si risparmia? Perché se fai una riqualificazione solo dell'impianto, quindi della caldaia, per tutta la durata del contratto, tu pagherai la stessa cifra che pagavi precedentemente e dal momento in cui lo termini avrai un guadagno e quindi pagherai meno, se no si raccontano delle balle alle persone e non vorrei, non mi piace, proprio non mi va. Da quel momento in poi, premesso che da quando inizi tu lo efficienti sicuramente, quindi è ovvio che se metti qualcosa di nuovo con una fonte rinnovabile è sicuramente meglio. Però che la gente sappia e abbia capito che cosa serve la normativa europea della 2020-2020, direi delle stupidaggine, perché di interviste andando nei mercati, nell'associazione, nelle parrocchie, ne abbiamo fatte a Iose. Nel momento in cui andavamo dalla signora Giulia, Antonia o Maria a chiedere, scusi, lei ha un cappotto termico, sa che ha un ponte termico in casa, potrebbe avere una tegola captante. Mi guardava come se fossi uno che è arrivato da Venere. E quindi come vi siete mossi, proprio andando in estrema sintesi per riuscire a aprire un canale? Come ci siamo mossi è una bella domanda. Sicuramente non utilizzando me, che sono stato più bravo a mettere insieme un centinaio di operatori e a fargli vivere un sogno che è diventato credibile, perché molti comuni italiani e molte province ci hanno chiesto di mutuare in Abitami da altre parti. Noi non abbiamo una mentalità, se non federale, quindi che si prenda la campagna e ognuno se la faccia, perché bisogna utilizzare le realtà territoriali, cioè professionisti come architetti, imprese, ESCO, devono essere quel territorio. Le aziende che sono il meglio dell'Italia, perché hanno prodotti innovanti, dovrebbero essere le stesse. Come siamo riusciti? Con una serie di personaggi che, come diceva nel convegno stamattina una delle intervenute, ci sono dei bravi facilitatori che sanno mediare e dialogare con le persone, perché l'approccio è più psicologico che di carattere economico. Anche questo aspetto risulta fondamentale. Ci vogliono gli educatori, ci vorrebbero Michele Dotti, più che Giovanni Pivetta per fare queste cose. Ti ringrazio, sicuramente il ruolo della facilitazione è emerso varie volte qui a Ecofuturo e tu ci confermi l'importanza. Ringraziamo Giovanni Pivetta, gli chiedo di ripetere il sito per chi volesse approfondire. Il sito con la H iniziale è habitami.it